La direzione investigativa antimafia di Caltanissetta ha posto sotto sequestro beni per 2 milioni di euro riconducibili al gelese Cristoforo Palmieri, titolare di aziende tra Gela, Vittoria, Acate, Vicenza e Parma. Sequestrati i quote capitali sociali di 9 aziende di diversi settori, 10 tra conti correnti bancari e postali, oltre a 4 fabbricati a Gela e 2 fabbricati e 2 terreni a Vittoria. L'uomo è ritenuto degli inquirenti vicino alle cosche mafiose di Gela e Vittoria.